buongiorno su re buongiorno su benvenuti in questo nuovo video oggi video prodotti terminati i capelli un po all'aria ma dopo devo andare a piastrarli allora prodotti terminati del mese di apri 10 di aprile di maggio di maggio sono rimasta indietro ma prima di vedere quali sono i prodotti iscrivetevi al canale seguitevi su instagram attivate la campanella per non perdere nessun nuovo video e lasciatemi un like ora possiamo iniziare allora abbiamo questa bella borsa piena di cosucce allora iniziamo subito da questo prodotto non riesco mai a farvi vedere i prodotti va beh fidatevi magari vi metto la foto allora prodotto di nao bay però non leggete se lo metto qui va beh prodotto di nao bay è una crema leggera e ossigenante e detox allora è carino il pack questa crema ha un profumo delicato è vero che leggera ma una cosa che odio e per questo io la boccio e perché fa un casino di scia bianca sembra che vi insapponate il viso e io odio questa cosa e se la passate sulle sopracciglia vi trovate tutta la crema quando si asciuga bianca e un'altra cosa che odio cioè se la crema è comunque una buona crema perché è il suo lavoro lo fa vi sentite bene la pelle rimane idratata ma è questa cosa io non la sopporto e per questo motivo io la boccio poi ho terminato questa crema corpo di nao bay quarto caso non ci avevo fatto caso sempre nao bay infatti allora hanno lo stesso tappo va bene questa crema corpo di nao bay c'è scritto body radiance lozione è un 250 ml è una crema molto leggera con un profumo fumo molto delicato c'è scritto che è tonificante ecco io tonificante non l'ho trovata trovo che sia un latte molto leggero ma non troppo idratante non ho visto neanche una tonificazione da questa crema infatti vi dico la verità non mi ha fatto impazzire perché ho le gambe troppo secche per questa crema forse va bene quando fa tanto caldo che abbiamo bisogno di meno nutrimento e è scomodo il pack è veramente scomodo allora qua aveva il tappino che io ho tirato via perché dentro rimane tantissimo prodotto l'ho allungato con un po di acqua per poterlo finire perché a me dispiace buttare via isolata avanti ancora per un bel po di giorni e però il pack è modissimo cioè dovete tenere sempre la confezione così perché se la tenete dritta quando mettete la crema ora che arriva giù mi passa la voglia di mettere la crema e io sono così troppo leggera la crema il pack pessimo quindi lo boccio per questo poi questo è un solo un contenitore ma volevano farvelo vedere perché in passato io ho fatto vedere che qui dentro c'era la cipra di neve cosmetics che ho terminato e sono contentissima ho finito la cipria solo per questo poi ho terminato l'ultimo shampoo della sien che sapete che mi piace tantissimo che vi consiglio di provare quindi andate da si da sia da l'idol a prenderla a vedere se c'è ancora io e da un bel po che non vado più all'idol è veramente tanto ci devo andare e niente provato le fatemi sapere scrivete poi balsamo al timo biologico sempre preso dall'idol è buono è piaciuto tutta la famiglia io non l'ho usato è marito e figlio però è gli è piaciuto poi parliamo di maschere allora questa qui è la maschera della balea che vi ho fatto vedere nel nell'all di del dm mi è stato scritto sotto mi raccomando fai la recensione delle maschere e quindi ne usate due vi dico come sono allora questa qui che è della balea è un inidro gel quindi abbiamo due maschere una per gli occhi e una per la parte una per parte superiore l'altra per la parte inferiore è molto bagnata infatti io l'ho usata tre volte quindi mi è piaciuta tantissimo l'unica cosa che essendo in idro gel è un po sottile quando la tirate via dovete metterla subito sull'apposito perché la maschera ha due fogli uno bianco ce l'appoggiate sopra e quello trasparente poi si chiude perché così non si appiccica però mi è piaciuta tantissimo vi lascia la pelle fresca non appiccica e vela sente bella sentite bella idratata infatti qua dice che è idratante illuminante in idro gel allora illuminante non ci ho fatto caso vedevo della vita però idrata vi lascia una bella pelle cioè vi sentite bene proprio è un bel trattamento mi è piaciuta tantissimo devo dire invece questa qui che ha la bava di lumaca allora non mi è piaciuta tanto perché la maschera è piccola c'è scritto viso monomuso è però è piccolo di essere girato è piccolina cioè quando la mettete su non arriva bene fino a qua e corta e corta infatti l'ho provata anche mio marito cioè lui addirittura gli avanza proprio i pezzi qua quindi devo dire che come maschera è piccolina ed è non è bagnata abbastanza è bagnata veramente il necessario quindi non mi è piaciuta non mi è piaciuta per questo e non la ricomprerò questa qui era della matt sempre presa al dm poi ho finito il roller il roller lash di benefit mi è piaciuto tantissimo è veramente un buon prodotto ci ho messo dentro del collirio per poterlo pulire per bene ma non è cioè è andato avanti ancora un pochino però adesso fa tutti i grumi non è più bello quindi è ora di buttarlo poi ho terminato questa crema per mani da mani e queste creme sono tutte buone queste della moriso enco che io ho trovato nel calendario dell'avvento è un 30 ml sono creme pazzesche vi idratano le mani e questa non ha il profumo maschile ma ha un profumo buonissimo vediamo se c'è scritto oddio non lo vedo non lo vedo tutto scritto troppo piccolino non lo vedo però questa finalmente ha un buon profumo per noi ragazze finalmente quindi le creme di di morison enco ve le consiglio perché sono veramente buone poi ho terminato la spuma doccia della rituals e questa è una coccola questa è veramente una coccola dura poi tantissimo dovete usarla nelle mani con le mani non sulla spugna perché vi perdete tutto il bello della della spuma perché la spugna se la beve la sorbe invece sulle mani rimane è in gel quindi voi quando schiacciate vi esce il gel che un giro di qualche secondo diventa una bella schiuma bianca e soffice ed è bellissima da spalmare sul corpo è una coccola lascia la pelle idratata ha questo profumo leggero ma molto gradevole e niente questo qui era il gusto milk sherry blossom che devo dire che adoro è proprio quei profumi proprio che io mi coccolo io mi coccolo quindi ve lo consiglio assolutamente poi ho terminato questo shampoo secco della maroccano il che l'avevo preso dalla parrucchiera mi ha dato il dark tones non so come si legga quindi shampoo secco è leggermente colorato però non rimane sul capelli il colore è un bianco leggermente sporco che all'inizio non mi non mi era piaciuto perché mi lasciano sante che spazzolarsi i capelli mi lasciava i residui i residui dello shampoo e li rendeva opachi poi leggendo le descrizioni perché la porchiera mi ha detto spruzzo e spazzola invece no non funziona così nella descrizione c'è scritto spruzza lacciolo agire e massaggia infatti così massaggiando sparisce tutto il bianco e spazzolando va via completamente però una cosa che non mi piace adesso non so se è un effetto che fanno tutti gli shampoo secchi infatti scrivetemi qua sotto nei commenti se per caso non sia così ma lascia i capelli opachi cioè non sono lucidi come quando sono puliti e quindi questa cosa dell'opacità non mi piace quindi fatemi sapere nei commenti se gli shampoo secco sono tutti così oppure no e scrivetemi cosa dovrei comprare adesso perché per me è fondamentale avere uno shampoo secco poi una combo questa qui l'ho trovato nel calendario dell'avvento di douglas one two three niente uno è una crema e l'altro è un detergente allora il detergente mi è piaciuto vabbè è normale niente di che senza infamma senza lode un detergente carino leggermente profumato fa abbastanza schiuma leggermente schiuma non fa una schiuma esagerata e l'ho potuto usare con il foreo quindi perfetto la crema la crema è anche questa è carina però troppo poca per capire se effettivamente mi piace cioè una crema normalissima sono 10 ml però secondo me con il fatto del detergente sono riuscita a usarlo di più rispetto alla crema la crema l'ho fatta fuori in poco tempo e ripeto non sono riuscita a capire effettivamente se è una crema che mi piace poi ho terminato quindi make up questa questo fondotinta di bare mineral che l'ho trovata nella beauty box dell'anno scorso perché era un prodotto per l'estate e l'ho terminato va bene non ce n'era tantissimo mi è piaciuto mi è piaciuto veramente magari sono fortunata e la ritrovo nella box però c'è quella di chicco da finire quindi onestamente non mi interessa perché l'ho comprata l'anno scorso e devo cercare di non dico di terminarla però la voglio usare allora invece di questa crema con tornocchi che si chiama verso e qui c'è il numero 5 questa è buonissima questa bella consiglio davvero un'ottima crema con tornocchi bella allora mi piace tantissimo la texture perché è consistente ma non unge ma idrata e quindi è bella sia al tatto perché io guardo anche quello a me piace tantissimo sentire la crema nelle maniche già mi dà soddisfazione e poi quando la massaggio altrettanto quindi è una super crema questa qui veramente buona verso numero 5 segnatevelo e poi questo prodotto qui che non mi è piaciuto si chiama fashion boutique della gloss ma non mi è piaciuto per niente il prodotto che c'era qui dentro l'ho messo per cioè l'ho usato per lavare le mani e perché peraltro no quindi l'ho usato come sapone per le mani e quindi lo boccio non ve lo consiglio non lo comprate via abbiamo terminato i prodotti di questo mese fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri prodotti terminati se abbiamo qualcosa in comune o se vi ho messo curiosità per qualche altro prodotto noi con questo video ci vediamo il mese prossimo e vi auguro una buonissima giornata mi mando un grosso bacio ci vediamo domani con un nuovo video ma prima di andare via e raga facciamo festa sì